Valsania squalificato, Bovo, Proietti e Campagnaro ancora fuori. Aspetto di più da tutti, non soltanto dai più anziani. Veniamo da una partita fatta male, sotto tutti i punti di vista, quindi riscendiamo subito in campo. La partita di Sabre è servita un po' a tutti per capire tante cose. Speriamo che domani ci sia una prova di carattere importante perché bisogna fare, sotto quel punto di vista, una partita importante. Io alleno tutti i giorni, so i difetti di questa squadra, ci sto lavorando sopra e adesso, ripeto, devo essere bravo io a cercare dalla partita di sabato e dalla settimana scorsa, come l'abbiamo fatta, di trovare la soluzione giusta per questa squadra. Quindi sto ponderando bene le scelte da fare. Quindi insomma si giocherà a tre ore? Potrebbe essere come potremmo rigiocare a quattro, potrebbe essere. Ecco, diciamo, per essere ancora più precisi, centrocampo comunque a tre. Centrocampo a tre sicuramente per valorizzare anche di più Brukman, per farlo giocare meglio, per dare più copertura anche alla linea difensiva. No, ma guarda, allora, giocare a calcio ci vuole determinate caratteristiche, che sono il temperamento, la voglia di fare, dimostrare, vincere il duello personale. Se non c'è tutto questo, e noi ci possiamo parlare di modulo fino a domani, dopo domani, il problema è ritrovare questo, la prima cosa principale, e poi ci metteremo in campo in maniera tale da fare una partita importante, perché domani è una partita importante. Il Presidente ha ragione quando si pone degli obiettivi. Io mi pongo domani, la partita di domani, ma come ho detto la settimana scorsa, perché è una partita importante sotto tanti aspetti, sia quella della classifica, sia per ritrovare la fiducia in noi stessi, che forse è la cosa principale, perché fare bene domani significerebbe cancellare definitivamente la partita di sabato scorso e di prepararsi a fare un'altra partita importante, quella di domani.